Non farlo assaltare la hacker Quante le hanno messi? Ma dove stanno sparando? No nooo un altro dappura non puoi che c'è il corpo non puoi che c'è il corpo non puoi che c'è il corpo basta non puoi non puoi che c'è il corpo Double kill Oh, mi salvo io! No! Madafaka! Siete morti entrambi così, non si può? Sì! Eh, uno in arrivo! Non è qua! Ma che razza di mira ho oggi? Preso! Mordo! Arrivo pure! Arrivo! Mi lascio di me! Arrivo pure! No! Hai fatto la scelta! Oh, per il tempo! Hai luttato il tipo? No, l'ho ammazzato uno ma ce n'è un altro E' qua, qua! Lasciamolo, lasciamolo, lasciamolo per fuori Che palle! Ma no! Non l'ho suicidato! Ho fatto un punto di sinistra e l'abbiamo di giù Ma andiamo di giù Vabbè ce n'è uno, ma... Ho dato l'armatura Siamo arrivati! Siamo arrivati! Arrivo, arrivo! Lul gran Marco! Oh, l'ho preso! Nooo! Ti ho ammazzato! Guardate qui! Boce morirà adesso Qua, uno è qua e uno è qua Grazie! Beh, non riescono ad arrivare lo sugo Ma non che non abbia assoluto dove vai Eh, ha appena sceso Ok, c'è morto Eh, sono qua, forza! Grazie! Come andai che sono arrivati? Ma no! Nooo! Aiuto! Eh, sono in due Uno da dietro e uno da davanti Due team diversi! Sì, per me ha vinto! Guarda che bello colorato! Ci sono, arrivo! Redeploy mate! Guarda che bello colorato! Centro! Un proso non Lo strano di freddo Un proso E' l'ho Un proso Un proso Ehm, mi sa che l'ha presa. No, c'ho messo una Claymore, però. Ehm, la missione non è stata presa, però non so. O c'è ancora? C'è questo o c'è? La missione c'è anche io. Io ho hackerato la Claymore, ho preso la missione. Io ho che fare. In to the mouth. Aia, ma... Cazzo, non mi ha aperto il paracadute. Sì, è tutto io. Listo? Stimato. Ci vado, ci vado, ci vado. Mi fai qua. Peso. Sopra di me? Preso, preso, preso. Sopra di me. Sopra di me. Adesso, grazie. Sopra di me. Grazie. Grazie.